Buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 Occhio ai giornali la rassegna stampa tra un istante come sempre prima guardiamo il santo di oggi oggi è una santa importante, è un dottore della chiesa, Santa Teresa Benedetta della Croce ovvero Edith Stein, nacque a Breslavia nel 1891, ebrea cattolica lei stessa divenne olocausto in mezzo ai suoi fratelli ebrei quando andarono a prenderla insieme con la sorella Rosa che l'aveva seguita al Carmelo per internarle tutte e due nel lager di Auschwitz, dice e disse andiamo per il nostro popolo Giovanni Paolo II, la proclamata santa e patrona d'Europa il sole è sorto alle 5.58, tramonterà alle 20.30 andiamo a vedere adesso il tempo, i dati dell'osservatorio meteorologico di Fano TV che trovate come sempre accedendo dalla pagina del nostro sito internet tokyolanotizia.it alle 7.29 la temperatura registrata è di 18 gradi con una leggerissima brezza di vento e possiamo dire che insomma oggi si apre questa giornata con una temperatura confortevole, una temperatura gradevole questa è la fotografia, la webcam che avrete la possibilità di vedere anche sul vostro smartphone tutte le volte che vorrete controllare il tempo che fa a Fano ecco qua la bella immagine digitale che vi propone la nostra webcam che punta in questo caso sul Codma di Rosciano quindi siamo alle porte di Fano Fano rimane sulla vostra destra sulla sinistra c'è l'inizio dell'eremo di Montegiove con la collina del Rosario che si intravede che si nota su questa immagine andiamo sul sito della protezione civile delle Marche che per oggi prevede cielo sereno poco nuvoloso avremo temperature in lieve aumento per la giornata di oggi tutta la costa adriatica sarà baciata dal sole ma domani, attenzione, vedete la grafica domani cambia il tempo con rovescio temporale sparsi nel corso del pomeriggio che si protrarranno durante la notte tra mercoledì e giovedì localmente i fenomeni potranno essere anche intensi le temperature minime sono in lieve aumento le massime senza variazioni di rilievo per giovedì 11 e non dimentichiamoci che mercoledì 10 domani è San Lorenzo la notte delle stelle cadenti bla 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 e quindi molti avevano in programma di andare a vedere nell'entroterra con il classico plaid mettendosi steso magari in qualche prato di vedere le stelle cadenti ma domani sera sarà un po' difficile giovedì 11 la situazione più o meno è identica fino al pomeriggio poi durante la serata invece la perturbazione scivolerà via e dunque il tempo migliorerà la seconda parte della settimana quindi giovedì, venerdì, sabato e domenica insomma tornerà ad essere caratterizzata da tempo stabile questo per il fine settimana i giornali cominciamo dal Corriere Adriatico in apertura Andrea si fidava che cosa gli ho fatto sono parole innanzitutto ci stiamo riferendo al delitto ferri sono parole di Sabanov uno dei due che è finito in carcere intercettato ecco le motivazioni della condanna non ha mai confessato ma le intercettazioni in carcere sono ritenute comunque ammissioni le motivazioni della sentenza per il delitto ferri sono raccolte in quasi 200 pagine di motivazioni in aprile è stato confermato l'ergastolo a Donald Sabanov in corte d'assise d'appello ad Ancona ridotta da 24 a 20 anni invece la condanna per l'altro ovvero per Karim Bari il ROF Rossini Opera Festival su il sipario dei record red carpet in grande stile per la prima della donna del lago all'Adriatic Arena politica e alta società sensibile al fascino di Rossini la pagina di Fano del Corriere Adriatico la città fa il pieno il sindaco è contento e parla di tradizione e di qualità ci stiamo riferendo alla giornata della festa del mare il sindaco esalta il successo degli eventi del fine settimana e l'impegno degli operatori agosto non è più il mese di Cenerentola come la Cenerentola dell'estate la folla apprezza innovazione e continuità Borgo Cavuri invece siamo in centro a Fano la festa compie vent'anni sarà sabato e domenica libretto di Pier Mattei su palazzi e personaggi un paese dei balocchi libero un donciotti che sarà sindaco speciale di questa edizione che è la numero 13 di un evento dedicato come ormai ben sapete ai più piccoli due sono le novità la linea dell'autobus che partirà da Marotta e appunto raggiungerà il paese dei balocchi e poi una tv web che si chiama Bellocchi TV curata dalle bellocchiane che hanno 13 anni il prete Donciotti che combatte le mafie ringrazia per me è una grande responsabilità ha detto dunque staremo a vedere a sentire ciò che dirà Beach Volley che spettacolo e Bagnarzilla vincono in Pesaresi Angelini e Battistoni Elefanesi Francioni e Chiarucci Porto Operazione Snellimento la marineria scrive al sindaco di Fano del Rio annuncia il Rio ordino Pesca Fano però è in fibrillazione Pesaro non ci inglobi il gruppo locale vuole capire quale strategia la regione concerterà con il ministero festa alla cantiere torna il varo di uno yacht emozione per l'evento non frequente come ai tempi prima della crisi e poi c'è anche la notizia sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico che all'Adriatic Challenge subito fuori cecchinato debutta Quinzi per quanto riguarda il tennis show al torneo il challenger entra dunque nel vivo sulla Val Cesano paziente come un pacco postale gira la provincia per un ricovero da Pergola a Fano poi lo portano a Sasso Corvare Urbino 145 km di strada per trovare un posto un posto letto aveva una crisi a Tassica via Crucis dalla mattina alla sera tra auto e ambulanze sottopasso no ghigliottina ennesimo incidente in via Damiano Chiesa siamo a Marotta distrutto un camper di giovani turisti il comitato Marotta Unita segnaletica carente e sui social si chiedono adesso le sbarre guardate come è si è ridotto questo camper che evidentemente o l'autista era distratto o insomma veramente non c'è la segnaletica che indica l'altezza e quant'altro insomma c'è rimasto i vigili del fuoco hanno già contestato le condizioni precarie della campata dopo le ripetute collisioni dalla buga all'acquascivolo viabilità in crisi a Orciano voragine sulla strada e tratto allegato con la pioggia e protesta ancora dalla pagina di Senigallia del Corriere Adriatico i ladri narcotizzano il cane e rubano pure la Playstation ripulita una casa banditi senza pietà nel bottino gioielli e addirittura un pallone da calcio blitz al circolo Arci di Borgo Catena nel mirino anche auto in sosta ed un camper questa è la cronaca di Senigallia nozza in spiaggia no perché non si può a Senigallia non si può aumentano le richieste ma i matrimoni in riva al mare sono ancora vietati è necessario il sì del demanio il comune dice noi non possiamo decidere e quindi molti si sono sposati sulla sabbia ma solo replicando la cerimonia in municipio perché lo ricordiamo insomma non c'è niente di ufficiale è solo una cosa così folcloristica e niente niente di più insomma ecco diciamo tanto per mare mosso soccorso un bagnante siamo sulla cronaca di Pesaro del Corriere Adriatico nella zona delle colonie sono intervenuti i bagnini di salvataggio il 118 nonostante la bandiera rossa gli inviti e la prudenza c'è chi sfida le onde il maestrale ha riattualizzato il problema invece dell'erosione mentre nella fotografia il Corriere pubblica il bagnino vedete un bagnino mentre vigila sulla sicurezza dei bagnanti in mare ieri mattina tra l'altro chi ha seguito il telegiornale ci sono le repliche alle 11 alle 13 e 40 circa 13 e 45 ascolterete anche il bagnino che ha salvato quella donna di Perugia di 38 anni che nonostante il mare in burrasca aveva deciso comunque di buttarsi e di gettarsi in mare e di fare il bagno in tanti lo fanno molti perché dicono noi siamo in vacanza abbiamo i giorni contati le ore contate un mordi e fuggi quindi una giornata di mare persa è un po' come per chi paga anche per stare in vacanza di godere un po' di mare può essere importante ma la vita vale di più certamente di una giornata di persa al mare restyling della bicipolitana si potenzia l'illuminazione siamo sempre a Pesaro grazie alla possibilità di sfruttare i fondi europei sull'ospedale unico la regione Marche ha deciso il posto il sito dove costruirlo adesso che cosa succede questa scelta il nome del sito dove la regione costruirà il nuovo ospedale unico che si verrà per Fano Pesaro e Vallate Limitrofe è stato inserito all'interno di una busta sigillata segretata col bollino ed è stata inviata questa busta al sindaco di Urbino Gambini che però in questo caso è il presidente dell'area vasta ora all'area vasta toccherà decidere un po' di cose scegliere di fare delle scelte con dei criteri eccetera eccetera se non si troverà la quadra neanche e l'area vasta non partorirà una decisione e quant'altro allora si aprirà la busta e si dirà questo è il sito e il sito è scelto è stato scelto dalla regione con un'applicazione qualcuno ha detto che applicazione è Google Map o una fatta d'arte dagli uffici della regione e si è scelto il punto baricentrico la regione ha scelto il punto più maggiormente facilmente raggiungibile dai vari utenti quindi quelli di Pesaro quelli di Fano quelli di Apecchio sono tutta questa gente qua tenendo conto che Urbino ha comunque un ospedale che funziona va bene è un po' complicata la facendo ho cercato di semplificarla per farvela capire un po' meglio allora in area vasta dicevo i sindaci potranno dare un valore a certi parametri anche se rimane l'incognita del traffico Ceriscioli la sede più oggettiva possibile alla festa dell'Unità ha illustrato l'Iter la responsabilità di Urbino che ricordo ha già appunto un altro ospedale poi Pesaro Sport guardate qua Filippo Magnini la coppia più famosa la coppia più famosa del nuoto la Pellegrini e Magnini Super Pippo ha fatto gli auguri alla sua compagna su Instagram la spedizione a Rio dove c'era sono le Olimpiadi della coppia famosa del nuoto italiano il tecnico di mito dice Magnini finale dei 100 stili libera ha portata una medaglia per la Pellegrini poi corda il collo è stato salvato un uomo in extremis aveva già deciso purtroppo di farla finita è stato salvato per fortuna un dramma all'alba i carabinieri lo hanno rintracciato perché l'ex compagna di quest'uomo che voleva farla finita ha lanciato l'allarme dopo aver ricevuto un messaggio d'addio i carabinieri rompono in casa a Montellabate e trovano l'uomo che si stava impiccando purtroppo ripeto anzi per fortuna per fortuna sono riusciti a tirarlo giù in tempo con l'aiuto dei vigili del fuoco che hanno tagliato il nodo e l'hanno appunto soccorso mentre c'è stato un altro infortunio a Pesaro un pavimento che non ha retto sprofonda precipita un muratore grave giovane dopo un volo di più di tre metri stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione quando si è letteralmente sentito mancare la terra da sotto i piedi è stato così è rimasto ferito un giovane di 22 anni di nazionalità romena Tavernelle il lago non c'è più ma tornerà ancora più grande l'invaso sarà ripulito per aumentare la riserva idrica provinciale anti siccità e adesso la pagina di Urbino con Sgarbi che assicura dice faremo cancellare la multa alla disabile disabile multata dai vigili di Urbino Sgarbi in soccorso dalla disabile la signora con gli stalli gialli occupati aveva occupato le zone blu senza però pagare questa è la notizia sulla pagina di Urbino del Corriere Adriatico velocemente apriamo adesso il resto del Carlino questa è la pagina principale ospedali ceriscioli dai numeri la regione ha trovato il sito che però resta segreto appunto il nome è dentro questa busta i sindaci potranno modificarlo il luogo scelto in base a tempi di percorrenza popolazione e distanza dal nosocomio di Urbino un metodo che parte però già con delle contestazioni mentre sul ROF il Rossini Opera Festival l'apertura delle meraviglie il giornale pubblica due pagine con tante fotografie la donna del lago un successo annunciato pubblico delle grandi occasioni sotto cappio al collo salvato dai carabinieri un 55enne aveva deciso di farla finita legandosi ad un lampadario e poi l'addio l'addio nel mondo dello sport ad un al campione del mondo sconfitto da un male implacabile Andrea Ciamaglia di 39 anni cacciatore e tiratore di Compact Sporting aggredito dal male solo pochi mesi dopo la vittoria mondiale oggi i funerali a San Pietro Andrea Ciamaglia a 39 anni si terrà questo pomeriggio alla chiesa parrocchiale di Villa Fastigi dove ieri sera si è tenuto il rosario un grande dolore per la moglie Elisa per i due figli per i genitori dell'elettricista con la passione per il tiro a volo e la disciplina della caccia mentre vedete nella fotografia qua sotto sempre sul resto del Carlino padre Luigi il frate che è scivolato in una scarpata ed è rimasto dieci ore all'addiaccio si è preso due temporali insomma stava arrivando da Roma al Beato Sante dove avrebbe passato un po' di e passerà comunque appena uscirà dall'ospedale di Urbino dove si trova ricoverato passerà un po' di giorni di riposo padre Luigi 76 anni insomma nella fotografia con Damiano Bartocetti che è un amico del frate e che si è adoperato tanto per mettere in moto la macchina dei soccorsi Radio Veronica eccola l'altra notizia che fa piacere certamente perché quando si spegne una voce nell'etere è sempre una brutta cosa su Radio Veronica tante voci circolavano negli ultimi tempi sta chiudendo sta fallendo eccetera in realtà un gruppo di imprenditori una cordata di imprenditori si è messa insieme e ha messo da parte messo sul tavolo un po' di soldini per rilanciare questa storica radio radio pesarese che per tanti anni siamo negli anni 90 ha fatto ha fatto un grande successo con diventando network nel centro Italia coprendo quattro regioni insomma era diventata davvero una grande radio poi a un certo punto a causa di scelte editoriali un po' discutibili tutti i dj furono cacciati licenziati ci fu soltanto una voce registrata femminile che raccontava ogni tanto massime una volta anche un po' discutibili comunque adesso sono tornati i dj sono tornate le dirette ed è tornata Radio Veronica morte e risorta torneremo primi raccontano e dicono adesso i dj li vedete nella fotografia belli carichi e sorridenti al centro mentre fa il segno di vittoria con i pantaloni rossi c'è Fabrizio Fratta che è il direttore artistico al suo fianco i vari dj dell'emittente e poi in alto a destra invece il nuovo logo della radio che è comunque ancora la sede lì a tomba alla torraccia quindi insomma la sede è rimasta quella abbiamo già ricominciato a trasmettere racconta appunto Fratta e siamo operativi al 99% e questa è la notizia che troverete a pagina 8 del radio